Buongiorno, ben ritrovati per questa rassegna stampa, sono le 7.30 in questo momento, iniziamo insieme la giornata sfogliando i giornali come di consueto, ma prima di guardarli però facciamo le cose con ordine, il Santo del Giorno per primo, giovedì 5 marzo, Sant'Adriano di Cesarea Martire, il sole è sorto alle 6.38 e tramonterà alle 18.01. Guardiamo il tempo, partiamo subito dalla nostra postazione meteo, come vedete la temperatura è di 7,2 gradi, un'umidità del 76%, il vento, il vento che nella notte è stato direi presente in maniera importante, soprattutto nella fascia litorale, chi abita da quelle parti l'avrà sentito bene, qui una raffica è stata registrata alle 2.39 e intorno ai 46,7 km all'ora, in questo momento il vento è un po' calato, la velocità è di 30,6 km all'ora, quindi è un vento teso e la media è di 20 km. Allora vediamo la nostra webcam posizionata qua sopra, ecco che ci racconta con un'immagine quello che è in questo momento lo spaccato del tempo sopra la città di Fano, vedete un cielo grigio, plumbeo che insomma non fa presagire nulla di nuovo e allora in tema di previsioni vediamo che cosa ci dice la protezione civile, scendiamo fino a giovedì quindi oggi il cielo è molto nuvoloso, coperto, diffusi abbondanti le precipitazioni e a carattere di rovescio o di temporale anche e il limite delle nevicate è attorno ai 400 metri, le temperature sono appunto in calo, il mare è definito grosso quindi è un mare importante e le previsioni per venerdì, domani vediamo quali sono, cielo nuvoloso è molto nuvoloso, schiarite nel pesarese nel corso del pomeriggio quindi compare la simbologia del sole nel pomeriggio di domani, le precipitazioni sono più che altro al centro sud, abbondanti però nel settore interno nella prima parte della giornata, il limite delle nevicate è sempre intorno ai 400 metri, il mare è molto agitato quindi come vedete è scalato di una classificazione quindi è in scaduta per usare un termine marinaro e vediamo anche per sabato che l'evoluzione del tempo è verso una stabilità, verso il berlo, insomma è poco nuvoloso, soltanto sui rilievi ci sono addensamenti, non si escludono però isolati piovaschi e quindi insomma le temperature risalgono anche e il mare è passato agitato quindi come vedete verso il fine settimana ci avviamo verso una situazione un po' più un po' più insomma come dire migliore di quella attuale. Allora guardiamo i giornali per oggi partiamo dal resto del Carlino di Fano, la situazione del Pincio veramente in maniera quanto mai immarcescibile dire che è un degrado, è un degrado, l'abbiamo denunciato molte volte anche con i nostri servizi, vedete uno sconsolato Zaffini guarda lo stato del Pincio, il nuovo rannuncio dell'assessore al turismo Stefano Marchegiani ronde di vigili contro i vandali per eliminare il degrado, anche un chiosco bar stile 800, Zaffini appunto di Fratelli d'Italia, ci vuole uno spazzino di quartiere per pulire anche Lido, Sassonia e Giardini della Rocca e di San Paterniano, naturalmente questo è un monumento importante per la nostra città, le foto sono eloquenti, guardate quello che si trova sopra la terrazza del Pincio. Caso Pagan, la lettera alla famiglia dice l'ipotesi del suicidio è priva di qualsiasi logica, ancora nella trasmissione di chi l'ha visto, il caso del Fanese scomparso in Albania. Poi la questione Zuccherificio, Confcommercio e Confesercenti, critiche sull'ex Zuccherificio, commercianti, il processo ha Duranti. Nella testata insomma in alto nella pagina c'è Fumante che lancia Perini per la regione, stiamo parlando delle regionali per quello che riguarda il PD locale e poi l'assessore al bilancio Carla Cecchettelli lancia la lotta all'evasione di Imutasi e Tari e poi più controlli, appunto la Cecchettelli annuncia l'approvazione entro aprile del bilancio e promette queste azioni a causa della crisi, a causa della crisi nel settore della nautica ci sono casi di morosità anche per i capannoni. Cambiamo città ma rimaniamo sempre nel resto del Carlino, la testata del Carlino e allora capitali in fuga, Pesaro in primo piano, quella naturalmente dell'evasione fiscale è una piaga che paghiamo tutti sulle nostre spalle, l'IMAB si accorda, ora pagherà 22 milioni di euro, tra il 2004 e il 2008 ne avrebbero portate almeno 90 a San Marino, al centro delle indagini, Piero Micheli, il direttore del controllo dell'erario, aveva frenato l'inchiesta e qui in questa pagina c'è un po' tutta, come sempre fa il Carlino, la ricostruzione della vicenda. Ancora dalle pagine del quotidiano bolognese non è crisi soltanto per le aziende, non è crisi soltanto per le famiglie ma anche le associazioni sono in crisi e ne pagano un po' le spese, è il caso della CNA, la CNA di Peso ha 30 esuberi, ora più vicini, la dirigenza dice colpa dei sindacati, stipendi ridotti e nessuno in mobilità, questa è la ricetta della CNA per fronteggiare questi esuberi ma CGL e UIL non hanno voluto parlare, è Moreno Bordoni il segretario provinciale, questa è la sede di Pesaro della CNA. la replica invece dei sindacati, in quel modo venivano penalizzate ulteriormente le fasce più deboli. Ultima pagina del resto del carino che vi facciamo vedere, continua la battaglia, la lotta di Varotti contro l'abusivismo celato, mal celato nei circoli privati e allora contro i circoli abusive, ecco la lista nera di Varotti consegnata alla finanza, sono 63 i locali che non rispettano le regole, la scrematura in particolare ce ne sono 10 che considero davvero nocivi per il loro impatto. Cambiamo il quotidiano, andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, prendiamo la pagina di Pesaro, qui a centro pagina in evidenza la questione politica, una fase delicata, serve molta intelligenza a parlare del deputato Marchetti sulle tensioni dopo le primarie e definisce l'intervento di Giovannelli imbarazzante, Oriano Giovannelli che aveva espresso pareri al vetriolo sull'andamento e sulla gestione delle primarie del PD a Pesaro. Allora qui dice il tema centrale, sempre a parlare Marchetti, è la rappresentanza dell'entroterra e su questo spero ci sia forte sensibilità, ora inizia la partita e l'unità è indispensabile, aspetta a chi ha vinto ricucire gli strappi. Continuiamo sempre con il Corriere Adriatico, a questione delle asfaltature e nuovi tratti di ciclabile, Biancani annuncia l'investimento di oltre un milione di euro, ok, della commissione dei lavori pubblici per Pesaro, quindi altre piste ciclabili per gli amanti delle due ruote a Pesaro. Andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico per quanto riguarda appunto Fano e Banca Marche, il doppio ruolo di Tombari, la fondazione da lui presieduta compra azioni per 45 milioni, Madonna Ponte finanziata per 42, Tombari che era stato al centro, sempre sulla stampa di accese polemiche e vediamo quali sono appunto questo articolo di Lorenzo Furlani, investimenti e affari. Poi Fanesi, naturalmente Cristian Fanesi, il presidente della commissione urbanistica, Cristian Fanesi dice ex zuccherificio, una nuova variante condivisa. Poi vediamo anche altri stipendi ai dirigenti, a puntare in dito su questa questione è del vecchio che ne solleva il caso, il capo gruppo Udc regisce a un'indichiarazione del presidente dell'Asia Dolding che deroga a sé la fissazione del limite. Ancora, pagina del Corriere, questa è quella di Fano, sempre colpo da Mancini, il furto da Mancini alla ferramenta, speronato l'auto vigilar rapina nella notte. Anche qui la questione di Pagan, Ivan Pagan, il mio fratello vittima di un reato, aprite un'indagine. La famiglia chiede a viva voce che venga aperto un caso e anche la procura pesarese se ne occupi, non solo quella albanese. Ancora, dalle pagine del messaggero di Pesaro, vediamo Palascavolini, ora si parte il sindaco Ricci, ci sono soldi e progetto, l'impianto sarà pronto per il ROF nel 2016. E poi ricatto a luci rosse sui social, i soldi o pubblico le foto, un impiegato pesarese vittima di una truffa dopo una conoscenza sul web. Italo tornerà sull'Adriatico ma solo a Rimini e non a Pesaro. Il collegamento sospeso per Milano non sarà ripristinato ma la società studia l'ipotesi di bus e navetta per la città romagnola. Quindi insomma, chi vuole usufruire di Italo deve andare a Rimini. Ancora dalle pagine di Pesaro per il messaggero, soldi e progetto ok per appunto il Palascavolini e adesso si corra, nel senso che si faccia presto per questa opera, sedotto e ricattato con le foto sul web. Acido, il luoro di Gualtieri, fissata l'udienza, naturalmente stiamo parlando del processo a Lucia Anniboli, fissata l'udienza per il favoreggiamento nell'aguato con l'acido. Il legale dice non ha presentato Varani agli albanesi e quindi queste sono code di questo processo. Ancora, sempre dalle pagine del messaggero di Pesaro, ce ne ha stipendi tagliati per salvare i posti, il sindacato non ci sta. Anche loro parlano di questo aspetto. La pagina di Fano del messaggero, la famiglia Pagan, ecco perché è omicidio e quindi la versione scomparso in Albania, i parenti escludono l'ipotesi appunto del suicidio. Si avrebbero i flessi positivi anche sull'inchiesta in Albania che solo ora ha considerato la pista del delitto. Poi una cosa che riguarda la stazione ferroviaria, vengono denunciati qui su questo articolo, ritardi e disagi, a dirlo è futuro giovane che accusa, ormai è diventato difficile anche fare solo il biglietto. Una pagina, una cosa che farà felici molti ragazzi dell'Istituto Olivetti e i diritti delle donne, premi inquilinali per l'Olivetti e prendolo è uno studente appunto dell'Istituto Fanese, Francesco Ambrosini che verrà premiato al Quirinale per l'ottavo concorso nazionale appunto sui diritti delle donne e questo ragazzo, Francesco Ambrosini, è della Quarta C dell'Istituto Olivetti e un bel modo per festeggiare la festa della donna è proprio questo, andare a vedere una mostra e il linguaggio delle arti per dire no alla violenza si terrà appeso e si intitola Identità inviolate, la singolare maratona di incontri, performance, letture per la festa della donna. In questa pagina di giorno e notte trovate tutti i dettagli di questa bellissima mostra. Bene, e con quest'ultima pagina vi lascio, grazie per essere stati in nostra compagnia, Occhio ai giornali termina qui, tornerà domani mattina alle 7.30. Buona giornata a tutti voi.